Cecilia e Ignazio continuano a far parlare di sé, le parole di Fede Zecchiara Ferragni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a far parlare di sé, la frecciatina simpatica di Fede Zecchiara Ferragni. Non smettono di far parlare di sé Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, pur a loro insaputa. Stavolta a citarli, direttamente da Los Angeles, sono stati niente po po di meno che Chiara Ferragni e Fede Zecchiara. La fashion blogger e il rapper si sono presi simpaticamente beffa della coppia sbocciata al grande fratello Vip, riportando in voga la tanto discussa e chiacchierata storia dellarmadio. Chi ha seguito il reality media se ti ricorderà senza dubbio la vicenda, i due giovanotti si chiusero leante alle spalle e una volta intrufolatisi dentro al mobile diedero spazio allimmaginazione di milioni di telespettatori. Ancora oggi non si capisce bene cosa sia accaduto, ma poco importa. Andiamo a scoprire perché la nota influencer e il cantante si sono presi la briga di lanciare una frecciatina divertente alla modella e allaitante ciclista. Chiara Ferragni a Fedez, era nellarmadio e come cap. Fedez e la sua dolce Ferragni sono volati a Los Angeles per preparare il parto del loro futuro figlio Leone. E con gran sorpresa, in una delle Instagram stories postate dal rapper, Chiara si è lasciata andare ad un paio di battute su Ignazio e Cecilia. Tutto è accaduto mentre la blogger stava guardando un film in cui un personaggio domanda, dove Paola? Fedez, a quel punto, ha ripetuto linterrogativo, ricevendo una risposta spassosa dalla fidanzata, si l'hanno trovata, era nellarmadio. Il cantante ha subito capito la frecciata e si è messo a sghignazzare. La Ferragni, giusto per sottolineare il succo della battuta, ha aggiunto, come che cu. Amore è è è, ha replicato Federico, con una risata divertita, come a tentare di contenere lo slancio ironico della sua futura moglie. Cecilia e Ignazio, Chiara e Federico, le giovani coppie spopolano. Cecilia e Moser, Fedez e Chiara, due coppie sulla cresta del successo, due amori giovani e belli che spopolano e fanno sognare. I collaudati Ferragni sono ormai in procinto di metter su famiglia, la fashion blogger è al settimo mese di gravidanza, e di convolare a nozze. Ignazio e la Rodriguez sono invece ai primi passi di una storia che ha fatto discutere fin dal suo inizio all'interno della casa del GF VIP, ma che pian piano sta crescendo, convincendo anche i più scettici. Iscriviti al nostro canale